Come cambiare il nome del nostro canale YouTube, l'immagine profilo oppure l'handle, lo username? Beh, in questo tutorial alvolissimo vediamo un'operazione che per alcuni potrebbe risultare quasi banale, ovvero alcune piccole modifiche al nostro canale YouTube, ma per altri potrebbe nascondere qualche grattacapo, non fosse altro perché non sappiamo dove dobbiamo andare a cliccare per effettuare quest'operazione. Perché magari voi vi siete già visti e vi siete già viste il mio tutorial su come creare un canale YouTube maledettamente bene, beh, ve lo linko nella descrizione se già non l'avete visto perché partite da lì se volete creare o aggiornare, assicurarvi che il vostro canale YouTube è fatto bene, ma avete inserito delle informazioni provvisorie oppure nel tempo avete cambiato idea e volete modificare alcuni dati del vostro canale YouTube. E allora dove andiamo a cliccare per cambiare queste cose? Beh, vediamolo super velocemente. Noi dobbiamo andare prima di tutto nel nostro YouTube. Andiamo in YouTube e in alto a destra, dove c'è l'immagine di profilo, andiamo su cambia account per assicurarci che abbiamo selezionato l'account corretto, cioè il canale giusto a cui vogliamo cambiare i connotati, perché poi la cosa peggiore che possiamo fare è magari cambiare le informazioni a un canale sbagliato oppure a un utente di YouTube che non stiamo utilizzando come canale. Se seguite il video come creare un canale YouTube maledetta bene, maledettamente bene, capirete perfettamente a cosa mi sto riferendo. Quindi una volta che voi avete selezionato il canale giusto da questo elenco, andate dentro lo YouTube studio. Cliccate in alto a destra e andate su YouTube studio. Una volta che vi ritrovate all'interno della vostra dashboard, e in questo caso lo stiamo facendo per il canale Il Paradiso della Brugola. E ancora, se non avete visto il video su come creare un canale YouTube maledettamente bene, andatelo a vedere e poi vi iscrivete a questo canale, Al Paradiso della Brugola, che in questo momento conta ben 62 iscritti. Insomma, buttalo via, è un bel risultato per un canale che non ha neanche un video pubblicato. Nella dashboard del vostro YouTube studio andate sul menu di sinistra, attenzione che potrebbe essere nascosta, la parte che stiamo cercando in basso dovete scorrere eventualmente, e cliccate fortissimo su personalizzazione. Non su impostazioni, ma su personalizzazione, mi raccomando. Quindi andate su branding per modificare l'immagine profilo, anche l'immagine banner eventualmente, che è quell'immagine che vi compare in alto sul vostro canale. E poi andate in informazioni di base per cambiare il nome e l'handle. Adesso facciamo un piccolo approfondimento su questi elementi. Eventualmente potete cambiare anche la descrizione del vostro canale, potete cambiare i link del canale, potete cambiare le informazioni di contatto e in layout potete cambiare la home page del vostro canale. Quindi in personalizzazione, insomma, cambiate tutte le informazioni pubbliche del canale, ma per quelle più rilevanti che possono interessarvi più spesso, andiamo a cambiare l'immagine prima di tutto. Quindi dentro branding andiamo su cambia, ne selezioniamo un'altra. Guardate, ho cambiato, ho creato una nuova immagine profilo per il paradiso della brugola che purtroppo non riconosce, ahimè, la brugola. Ci riconosce soltanto la più inglese, vabbè, ce la prendiamo così, va benissimo. Quindi modifichiamo l'immagine di profilo. Attenzione che prima di che i cambiamenti siano effettivi bisogna cliccare su pubblica, qui in alto a destra, ma prima di farlo andiamo anche in informazioni di base e cambiamo il nome, che potremmo definire il vero paradiso della brugola, e cambiamo anche l'handle, lo username. Lo username per semplificare l'indirizzo web a cui noi possiamo trovare il nostro canale, ed è univoco, cioè uno solo può averlo. In questo caso per esempio è https, due punti, barra barra, www.youtube.com, slash, chiocciolina il paradiso della brugola. Anche in questo caso noi cambiamolo con il vero paradiso della brugola, con la consapevolezza che entro 14 giorni possiamo ritornare al precedente. Inoltre noi possiamo cambiare l'handle due volte ogni 14 giorni, quindi il precedente handle ci viene conservato, metti che ci sbagliamo, non permettiamo ad altre persone di fregarcelo, ci viene conservato, possiamo comunque ripristinarlo entro 14 giorni, ma se noi fossimo dei grandissimi indecisi, beh noi ogni 14 giorni possiamo cambiare due volte queste informazioni. Quindi il vero paradiso della brugola, il vero paradiso della brugola. Attenzione un piccolo dettaglio, qui sulla destra scopriamo che questo handle è disponibile, perché come vi dicevo l'handle è univoco, cioè uno solo sull'intera youtube può avere ogni handle. Per esempio quello del mio canale è Ciraolone e l'indirizzo del mio canale è youtube.com slash chiocciolaciraolone, così come sugli altri social. Ad esempio se io volessi cercare l'handle paradiso della brugola, senza l'articolo davanti, vedete che youtube mi dice, eh non puoi amico mio, è occupato purtroppo e quindi devi cercartene un altro, mi fa anche una proposta che è onestamente orribile. Quindi facciamo il vero paradiso della brugola. Oltretutto sull'handle ci ho fatto un video completo, per cui se volete approfondire meglio i concetti legati allo username, all'handle, guardate il video completo che vi linko nella descrizione. Insomma, morale della favola, abbiamo modificato l'handle e adesso finalmente possiamo fare pubblica. Dopo aver cliccato su pubblica, in realtà a volte ci potrebbero volere alcune ore perché il canale pubblico sia aggiornato. Andiamo a vedere però cliccando su visualizza canale se effettivamente i cambiamenti sono già stati messi in pratica. Vedete? Alcuni sì, alcuni no. Per esempio l'handle qui in alto è già stato modificato, il vero paradiso della brugola, mentre il nome e l'immagine profilo non lo sono ancora state. A volte è solo una questione davvero di alcuni minuti. Una prova che potete fare potrebbe essere copiare il vostro indirizzo, attivare la navigazione in incognito, quindi senza già i dati salvati nella cache del browser e andare sul vostro canale per vedere se è stato aggiornato. Vedete che in questo modo lo vediamo nella sua versione aggiornata. Il vero paradiso della brugola, endolo aggiornato, immagine profilo aggiornata. Proviamo a ricaricare ancora una volta invece il browser normale. Ecco, vedete che adesso dopo alcuni minuti è stato aggiornato anche nella sua versione diciamo normale, tra virgolette. Torniamo adesso qui per vedere se è vero che possiamo riprendere il valore precedente, quindi l'handle e il nome precedente. Quindi cancelliamo vero dal nome, cancelliamo vero dall'handle, lasciamo l'immagine di copertina aggiornata che comunque non mi dispiace, clicchiamo su pubblica e vedete che abbiamo avuto la possibilità, come YouTube ci ha promesso, di riprendere l'handle precedente perché eravamo naturalmente entro 14 giorni. Credo che adesso ci dà comunque la possibilità di modificarlo perché evidentemente non lo considera come modifica il tornare al precedente, per cui probabilmente possiamo eventualmente ancora cambiarlo. Ovviamente non avrebbe alcun senso. Ricordatevi che potete effettuare questo cambiamento massimo due volte ogni 14 giorni. Torniamo ancora una volta su quello pubblico, proviamo a ricaricarlo e vedete che tutto è stato aggiornato. Abbiamo l'immagine di copertina effettivamente aggiornata, abbiamo il paradiso della brugola con l'handle corretto e abbiamo di nuovo il titolo corretto. E questo è quanto. Certo per alcuni di voi, alcune di voi forse queste informazioni erano scontate, però in base alle domande che ricevo mi rendo conto che anche le cose più semplici a volte possono darci dei grattacapi. Allora perché non raccontarvi come si fa in modo che per tutti e per tutte cerchiamo di sollevare il livello di consapevolezza e di competenze nell'utilizzo di YouTube. Spero che questo video quindi vi sia stato utile. Se ci sono dei commenti, delle osservazioni, delle cose che magari mi sono sfuggite, aggiungetele pure nei commenti così che le persone che arriveranno dopo di voi possano fruire, possano beneficiare di un contenuto ulteriormente arricchito. Se volete avere a che fare con me in una maniera un pochino più ristretta, venite a trovarmi sul sito ciraolo.me dove trovate anche i channel check per fare delle verifiche al vostro canale, dove trovate le consulenze, dove trovate le masterclass, la newsletter gratuita, il canale Telegram, insomma tutti i modi per fare cose con me siano essi gratuiti oppure a pagamento. Io vi super ringrazio per aver seguito questo video fino a qui, vi do un grosso abbraccio e un appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!